Una serie di iniziative in occasione della 44esima giornata per la vita. Allora, Vito, ci puoi spiegare in cosa consistono queste iniziative e come si svolgeranno? Diciamo che è un momento importante quello di ricordare l'importanza della vita nascente in particolare e quindi l'associazionismo cattolico in questi giorni si sta attivando, tra l'altro proprio a partire da oggi, che è la giornata della presentazione al Tempio di Gesù, quindi alla Candelora, è una giornata simbolica importante e quindi come azione cattolica, come Movimento per la vita, i centri di aiuto alla vita e tutto il mondo dell'associazionismo cattolico hanno adedito ad un'iniziativa importante che è quella della Dominus Production di consentire la visione in streaming del film Unplanned, un film che è in distribuzione in Italia proprio grazie alla Dominus Production. Dovevamo in questi giorni organizzare una proiezione anche nella nostra diocesi, ma è stata rimandata a causa del Covid, quindi la società di produzione ha deciso di rendere disponibile i streaming con un piccolo costo di un biglietto di 10 euro, ma naturalmente visibile poi dalle famiglie, quindi con un risparmio anche rispetto ai costi del biglietto al cinema, quindi la possibilità di richiedere questo link e durante tutta la giornata poter vedere da un unico dispositivo naturalmente poi il film. E quindi tutta una serie di sacerdoti, di associazioni si stanno mobilitando in tutta Italia per vedere questo film che parla dell'aborto, una storia vera di una donna, Abby Johnson, che lavorava in una clinica statunitense che favoriva l'accesso all'aborto, ma vedendo quello che accadeva possiamo dire si converte e diventa una palladina dei diritti provita. Quindi una bella storia, è possibile anche per i telespettatori di Cirento Channel accedere attraverso questa richiesta, questo link e eventualmente vedere il film. Ma poi la pastorale Famiglie e Vita ha organizzato per domani 3 febbraio una veglia di preghiera per la vita nella chiesa di massa di Vallo della Lucania, quindi anche questo momento importante è fortemente voluto da Don Roberto Guida e da Osvaldo e Silvana Santoro che coordinano l'ufficio pastorale e Vita. Perché anche su questo tema, bisogna dire, il vescovo Monsignor Ciro Miniero è sempre molto attento. E quindi arriveremo poi il 6 febbraio con la 44esima giornata per la vita a vivere in tutte le chiese, in tutte le parrocchie, questo momento così importante. Quindi è importante proprio soffermarsi in questi giorni sull'importanza della vita nascente. E quindi abbiamo deciso anche come Cilento Channel di organizzare lo speciale di Eccomi venerdì sera e replica naturalmente domenica proprio per la giornata per la vita nascente. Quindi un appello importante, una puntata speciale anche quella dove cercheremo di ragionare insieme su quello che spesso viene trascurato, ossia che nel grembo di ogni mamma c'è una vita che non desidera altro che venire alla luce e che purtroppo di fronte a tanta propaganda che vuole banalizzare anche la pratica abortiva. Pensiamo a quanti danni si fanno nella mente anche degli adolescenti. Quindi rispetto anche ad una facilità di accesso alle pratiche abortive e anche farmacologiche. quindi con tanti danni anche per le ragazze, semplicemente perché non si percepisce il senso profondo di una vita che è custodita nel grembo. Quindi dobbiamo ragionare di questo. Quindi è importante anche attraverso Cilento Channel e la sensibilità che su queste tematiche da sempre dimostra cerchiamo di entrare nelle case e di aiutare ognuno a rifletterci un po' di più.